Siamo con mister Papanni, mister ci troviamo a commentare una sconfitta arrivata a Verona scomoda da digerire. Ma noi veramente siamo già orientati alla prossima partita che già stiamo preparando con grande attenzione prendiamo consapevolezza di aver disputato non soltanto domenica a Verona ma anche nell'altra trasferta con un'altra squadra ambiziosissima come il Pescara delle buone prestazioni e quindi su queste basi e su quello che di positivo possiamo estraporare sia dal punto di vista del gioco anche per le occasioni che abbiamo fallito anche dal fatto storico di non aver preso per la prima volta l'espulsione e siamo rimasti in undici fino alla fine prendiamo questi presupposti positivi per buoni e come base per la futura partita. Ecco quindi mi permetto che non si può rimproverare certo la tenuta del campo dell'Andrea la gestione della partita comunque accettabile increscendo la squadra quindi sta cercando di lavorare più sull'aspetto dei nervi dei giocatori visto che c'è stato un calo tra il primo e il secondo tempo domenica. Ma soltanto dal punto di vista del risultato c'è stato il calo perché noi abbiamo cominciato benissimo la gara i primi 3-4 minuti poi abbiamo subito il gol in una loro ripartenza abbiamo palla noi in una loro ripartenza e sull'1-1 l'arbitro anzi il guardalini ha segnalato un fuorigioco inesistente su sì che avrebbe potuto rappresentare perché era tu per tu col portiere la seconda rete. Noi siamo stati ampiamente penalizzati in quella prima parte del secondo tempo da un secondo gol poi con chiara spinta su Cepitelli da parte di Selva che poi ha realizzato e lì probabilmente l'unico calo c'è stato dopo il secondo gol di 3-4 minuti ma era comprensibile visto che eravamo stati ampiamente penalizzati dall'1-0 meritato ci siamo trovati sul 2-1. Diciamo domenica arriva in casa dell'Andrea il Portogruaro una squadra partita molto bene contro qualche pronostico probabilmente come si affronta e come si prepara una squadra che sta giocando bene adesso? Ma noi sappiamo e abbiamo consapevolezza di affrontare la capolista capolista meritatamente capolista così come dicono i risultati i DVD che abbiamo visionato del Portogruaro però anche noi abbiamo bisogno di punti stiamo crescendo sotto il profilo della condizione perché stiamo lavorando intensamente da un mese con questo gruppo che non lesina impegno grande sacrificio e questo rappresenta una grande base per cercare di insieme al nostro pubblico che è risultato già importante con il Cosenza e con la Spalla in casa di superare questi momenti di difficoltà perché come ho detto anche ai colleghi io credo che l'Andrea in prima divisione l'ExC1 rappresenta un patrimonio del territorio e dobbiamo fare in modo tutti quanti società, giocatori, staff tecnico, tifosi di preservare questo grande patrimonio Per chiudere pensa che sarebbe probabilmente la svolta della stagione dell'Andrea se arrivasse un risultato positivo in casa contro la capolista Dal punto di vista psicologico rappresenterebbe un viatico fondamentale però credo che il campionato è molto lungo noi dobbiamo essere consapevoli che possiamo crescere che stiamo crescendo non tanto per quello che riguarda i risultati però stiamo crescendo dal punto di vista della condizione così come ho sempre sostenuto le paure, le angosce ti fanno perdere molte energie dobbiamo essere forti, saldi e sicuramente cominceremo anche ad affrontare squadre al nostro livello dal punto di vista dell'organico già il fatto di aver affrontato squadre importanti come il Pescara e il Verona e domenica affronteremo anche la capolista e crediamo di offrire anche una buona prestazione domenica significa che c'è tanto di buono su cui lavorare grazie grazie